Presidente Giotti, come entra il ruolo delle farmacie nella questione delle liste di attesa? Le farmacie qui, soprattutto nella zona di Arezzo, fanno un servizio cup d'eccellenza sia per le vite specialistiche che per le analisi ematochimiche. E da qui ci rendiamo conto, purtroppo, che queste liste di attesa via via si sono allungate nel tempo. Noi riteniamo che questo dipenda sia dal fatto che dopo il periodo Covid siano aumentate e nello stesso tempo ci sia stata una diminuzione di professionisti che potessero eseguire sia le vite specialistiche che le analisi ematochimiche. Noi interveniamo fino ad ora su un settore particolare, per esempio, sulle malattie cardiovascolari o sulla BPCO attraverso queste analisi di prima istanza. Interveniamo nel fare gli elettrocardiogrammi o gli altercardiaco, i pressori o la spirometria, però a pagamento perché ancora non c'è un accordo per prestare da parte della farmacia questi esami in convenzione. Quindi renderle gratuite al cittadino.